Ciao a tutti qua dal Campione d'Italia per il secondo giorno del mini event come vedete siamo pronti io e Matteo per iniziare questo dei due arrivano altri blogger che salutiamo finalmente oggi la giornata è bella qui a Campione d'Italia dopo la pioggia di ieri che ci ha praticamente rovinato tutti siamo un po' tutti raffreddati si inizierà alle ore 15 come vedete la sala è totalmente vuota oggi si giocherà il secondo giorno del mini event e il torneo da 5.50 noi di PokerItaliaWeb seguiremo solo il mini event